Il pentagramma messo a servizio del dialogo anche tra i cristiani. Nel sulco di una fruttuosa collaborazione con la cappella musicale pontificia Sistina, lo scorso 25 gennaio, solennità della conversione di San Paolo Apostolo, il prestigioso coro di Westminster Abbey ha partecipato alla celebrazione dei Vespri a conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Un momento di comunione e di condivisione, come ci racconta Monsignor Massimo Palombella, maestro direttore della cappella musicale pontificia Sistina. Sicuramente tanta professionalità vissuta insieme e tanta sana amicizia e cordialità. Tante cose che vicende storico-politiche possono aver separato nella cristianità possono in qualche modo ritrovare punti di unità nella frequentazione comune delle fonti comuni. Nel senso che per fare musica a un certo livello, seriamente, bisogna possedere delle fonti. E queste fonti sono comuni. Sono comuni a noi, sono comuni agli anglicani, sono comuni ai luterani, sono comuni agli ortodossi. Allora, questo taglio professionale, questa scelta di cultura, è ciò che permette di essere un grande veicolo, la cultura è un grande veicolo di evangelizzazione. Bisogna saper fare scelte di cultura e stare su queste scelte di cultura, perché sono coloro le quali appunto permettono di trovare vie d'unità. La cappella musicale Pontificia Sistina, oltre ad accompagnare le celebrazioni presiedute dal Papa, rappresenta una realtà professionale che dedica ampio tempo allo studio e alla ricerca riguardo la riforma liturgica disegnata dal Concilio Vaticano II, oltre a coltivare relazioni proficue con altre realtà musicali internazionali. Ogni anno noi abbiamo un grande appuntamento ecumenico. Ne avevamo uno, adesso ne abbiamo due, ma si può dire il grande appuntamento ecumenico già iniziato con Papa Benedetto nel 2012 è proprio questo appuntamento per la solennità dei Santi Pietro e Paolo a giugno, dove sempre un prestigioso coro non cattolico si unisce alla cappella Sistina per cantare alla celebrazione eucaristica nella Basilica, ma il giorno prima per tenere un concerto offerto al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede ai superiori della curia romana nella cappella Sistina, dove appunto il meglio del repertorio della confessione cristiana che viene ospitata viene eseguito a questo concerto e anche alla celebrazione eucaristica. Quindi ogni anno c'è questo grande appuntamento. Quest'anno lavoreremo con la riforma luterana e di dove è un coro luterano? Il Tolts Knaben Core di Monaco verrà quest'anno e prevediamo che il prossimo anno si lavorerà di nuovo con gli anglicani, probabilmente con la Royal Chapel di Buckingham Palace, probabilmente nel 2019 si lavorerà con il Sant'Omaso di New York, anche uscendo dall'Europa, però sono sempre tutti grandi appuntamenti con prestigiosissimi cori non cattolici. Piano piano, nel corso di questi anni, si è creata una rete di relazioni che ci permette di guardare e fare progetti professionali che incrementano sempre queste vie di unità.